E' un inizio di un nuovo percorso per gli abruzzesi perché contiene tutto ciò che io ho studiato, imparato e rivitalizzato negli ultimi 30 anni, però per me è un punto d'arrivo. Non credo di poter fare di più, ma consiglio a tutti quanti di leggere questo libro che tratta di 11 feste abruzzesi rivitalizzate e quindi riportate alla nostra epoca e che conservano però tutti i valori della tradizione, sia nella forma che nei contenuti. Quindi un discorso molto importante che può essere utile anche per pensare a un futuro migliore rispetto alle situazioni problematiche che abbiamo adesso. Abbiamo raccolto per 10 anni le migliori foto grazie al fotografo Roberto Castrofino che segue le attività della Compagnia Tradizioni Teatine. Naturalmente è un libro che ha avuto anche un notevole successo perché è stato finanziato dal Consiglio regionale per la cultura e è considerato dall'editore Menabò uno dei migliori libri che sono stati pubblicati da questa famosa casa editrice. Poi in realtà i testi che ho scritto nel corso degli anni e che poi sono stati revisionati e implementati dall'opera di Francesca Falcone che è una curatrice di beni culturali. A questo libro che tratta del museo all'aria aperta abbiamo anche un museo al chiuso. Quindi abbiamo tutte e due forme di espressione, sia quella della conservazione etnografica ma sia anche quella dell'applicazione delle tradizioni nel mondo moderno. Il Consiglio regionale promuove tutti i progetti interessanti che soprattutto valorizzano le nostre origini e le nostre radici. Questo progetto sicuramente è un progetto interessante perché poi è ricaduto sul territorio dove si riorganizzano, si vitenizzano manifestazioni che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. È evidente che un popolo che vuole andare avanti, vuole innovarsi però deve tenere sempre presente le proprie tradizioni, deve capire da dove viene per capire dove andare. Sicuramente questo è un libro interessante, un progetto interessante rispetto a questo punto di vista.